Amici bentornati sul canale 9000 giri elaborazioni auto sportive oggi abbiamo una macchina un po particolare da presentarvi non è che capitano proprio tutti i giorni macchine di questo genere è questa Audi RS3 quindi l'ultimo modello della RS3 quindi proprio l'evoluzione estrema ed è la prima che vediamo anche noi dato che ne consegnano col contagocce abbiamo avuto la fortuna di poterci lavorare io inizierei prima di dilungarmi su quello che abbiamo fatto dandovi due dati su questa macchina del perché questa macchina è così particolare quindi diciamo che l'aspetto principale il motore un 2005 di cilindrata cinque cilindri 400 cavalli con una cosa già di nota che eroga 500 newton metri di coppia già a 2200 giri come optional oppure successivamente si può richiedere il bypass dello speed limit perché questa macchina come tutte le macchine tedesche per accordi sono autolimitate a 250 all'ora volendo si può chiedere come opzione prima dell'acquisto l'eliminazione dello speed limit senza lo speed limit questa macchina arriva quasi a 290 all'ora quindi la dice lunga sul fatto sulle prestazioni di una macchina del genere viene proposta in due versioni la sportback e la berlina quindi o la quattro porte o la due porte fra le due versioni cambia poco cioè ci sono proprio delle differenze minimali comunque viene proposta in due versioni tecnicamente è un mono turbina quindi differentemente da quanto è un po la tendenza recente a un mono turbo di grosse dimensioni e questo determina ovviamente un minimo di turbo lag però questo discorso del turbo lag è proprio una caratteristica e secondo me viene anche verrà anche apprezzato dai da coloro che acquistano questa macchina perché è proprio un saper guidare una macchina con un minimo di turbo lag dà anche un piacere che è scomparso alla notte dei tempi se prendiamo le vecchie delta integrale o le alfa 75 turbo aveva un turbo lag notevolissimo e nel momento in cui la macchina entrava in pressione era uno degli aspetti più apprezzati dai clienti di allora un'altra delle caratteristiche fondamentali che spiccano su questa vettura è il discorso del differenziale questa macchina un differenziale molto particolare un differenziale posteriore ovviamente attivo che si chiama appunto torque splitter che dà la possibilità di avere un sovrasterzo molto molto consistente diciamo che questo tipo di differenziale agisce come dicevo prima sull'asse posteriore la trazione a livello elettronico si può spostare dall'asse anteriore all'asse posteriore non si può escludere l'anteriore e il limite massimo di spostamento della trazione è un 10 per cento sull'asse anteriore un 90 per cento sull'asse posteriore con questo differenziale si può però stiamo ragionando a livello estremo si può addirittura avendo spostato la trazione sull'asse posteriore per il 90 per cento avere una percentuale solo su una delle due ruote posteriore addirittura dell'ottanta per cento poi uno fa i calcoli a livello percentuale ma comunque è un come dire un tipo di differenziale che è veramente unico nel suo genere e se uno guarda qualche filmato delle macchine in prova di questo genere fanno dei sovrasterzi incredibili quindi bisogna essere chiaramente capaci e non è una macchina adatta a tutti per questo tipo di giochini però per uno che è smaliziato che ha delle buone capacità di guida dà delle soddisfazioni che probabilmente nessun'altra macchina stradale riuscirebbe a dare un'altra caratteristica di questa macchina è le due carreggiate che sono differenti oltre alla gommatura ovviamente circa 19 pollici ma la carreggiata anteriore risulta leggermente superiore cosa che di solito è esattamente il contrario la carreggiata anteriore risulta leggermente superiore alla carreggiata posteriore questo perché è stato fatto appunto uno studio molto accurato dai tecnici di Inglostad e hanno creato veramente una macchina io direi forse una delle macchine top che c'è adesso senza arrivare chiaramente a macchine diciamo di livello ancora superiore diciamo che i concorrenti di questa vettura sostanzialmente possono essere o la Mercedes A45 AMG S o la M2 io ci metterei dentro anche la Yaris GTR che è una macchina veramente molto molto particolare con meno cavalli però il rapporto peso potenza assolutamente eccezionale ne aspettiamo aspettiamo la prima per poter potervi dare una serie di informazioni anche su quella macchina lì l'ultima cosa diciamo di degna di nota è il fatto che abbia due mappe specifiche legate al differenziale per poter settare come dicevo prima il differenziale in maniera veramente micrometrica questo è un aspetto veramente che la rende direi quasi unica per questa fascia di vetture direi come dicevo prima è un instant classic io personalmente avevo scelto magari un colore un pochino diverso ci sono dei colori veramente molto particolari quindi anche gli interni vengono curati in maniera specifica quindi su richiesta uno può chiedere un colore fuori catalogo e addirittura fanno anche le cuciture i rivestimenti dei sedini ho visto una verde acido con addirittura tutte le finiture interne fatte nello stesso colore quindi diciamo che è stata fatta veramente un'opera d'arte a livello motore a livello trazione a livello carrozzeria direi che è stata centrata pienamente fatta questa introduzione la macchina pochissimi chilometri nel senso che ha 2500 chilometri questi sono due nostri vecchi clienti che hanno sempre ci hanno sempre portato macchine molto particolari non so se vi ricordate un servizio di un po di tempo fa sulla mini gp l'ultima versione della mini gp ecco questi qui sono i proprietari di quella macchina e quindi proseguono su questa strada con macchine molto molto particolari in questo caso ci hanno richiesto due tipi di lavori per il momento ne abbiamo fatto uno nel senso che ci hanno richiesto di fare completamente tutta la linea di scarico a faccio un'altra premessa questa macchina al settaggio anche del con una valvola ovviamente della rumorosità più o meno sportiva però ovviamente si può fare molto ma molto di più quindi c'è stato richiesto un impianto della krapovich che è in produzione nel senso che non è ancora disponibile l'hanno presentato a luglio e ci arriverà alla fine di ottobre sarebbero forse poi prima o secondi in italia a montare questo genere di scarico completo cioè senza chiaramente toccare i catalizzatori ma da dopo i catalizzatori fino in fondo completamente in titanio con le uscite in carbonio siamo molto molto ansiosi di poterlo provare di sentire la differenza rispetto comunque un buon un buono scarico ma comunque in acciaio quindi il disorso scarico è in stand by e ci riaggiorneremo poi a ottobre appena ci arriverà il pezzo e appena la monteremo l'altra cosa che ci hanno chiesto è questa io la chiamo un'opera d'arte l'abbiamo già montata su alcune vetture forse l'avevamo vista su una bmw una m135 un po di tempo fa la e venturi che è questa ditta che fa solo impianti di aspirazione specifici per poche vetture cioè c'è un catalogo di una quindicina di vetture 20 vetture sulle quali viene realizzato proprio tutto il kit di aspirazione completamente in carbonio con un filtro di dimensioni studiate in maniera molto particolare quindi il fatto di dimensionare tutti i vari pezzi se vedete questo pezzo qui qua una sezione qua un'altra sezione e qua ne ha un ancora diversa non è perché è stato sbagliato il tubo ma perché ci sono stati è stato fatto uno studio per cui il flusso di aria probabilmente con questa differenza di diametri ha un ingresso e ha una fluidità particolare quindi al di là del fatto che questi al di là della bellezza del pezzo quello che caratterizza appunto questo tipo di prodotti oltre al costo perché costano veramente tanto ma al di là di quello che il costo è proprio lo studio tecnico quando uno va a realizzare un prodotto del genere deve avere la certezza matematica che lo monta e deve avere un risultato certo questa è una delle ditte che oltre appunto a fornire il materiale che va su in maniera perfetta quindi con attacchi cioè non bisogna fare nessun tipo di modifica quindi va su perfettamente da anche un riscontro in termini di quanti cavalli e quanta coppia uno recupera adesso a memoria la coppia non me la ricordo ma il il numero di cavalli siamo oltre 15 cavalli quindi il fatto di aver montato senza aver toccato centralina scarichi o altre cose quindi il fatto di montare un key di aspirazione come dire adeguato solo questa cosa qua porta la potenza da 400 a oltre 415 cavalli cosa che con qualunque altro sistema che viene come ho detto altre volte nella puntata sui filtri accrocchiato in qualche maniera di grazia che si recuperi qualche cavallo piuttosto che non lo si perda quindi bisogna stare molto attenti a fare questo genere di lavoro soprattutto su macchine molto tecniche dove già stato fatto uno studio da diciamo da tecnici che sono chiaramente hanno una competenza che è molto superiore a quella di tutti noi messi assieme o di qualunque altro preparatore almeno in italia bisogna andare a come dire utilizzare prodotti testati quindi sia per quanto riguarda l'aspirazione sia per quanto riguarda lo scarico ad montare appunto il top di gamma anche quelli con costi veramente iperbolici ma come dico sempre ai miei clienti chi meno spende più spende se volete avere un risultato certo piuttosto fate poche cose ma quelle che fate fateli in maniera giusta e corretta spendendo quello che c'è da spendere io per il momento direi che è tutto ci riaggiorniamo a fine ottobre quando avremo lo scarico e la di nuovo la macchina disponibile per il momento è tutto vi ricordo di iscrivervi al canale anzi faccio un ringraziamento a tutti coloro che ci stanno seguendo perché il canale sta andando molto bene siamo veramente molto soddisfatti del seguito che abbiamo dei commenti che voi ci fate siamo sempre disponibili a qualunque tipo di risposta anche a limite delle critiche o a confrontarci su alcune cose dove delle opinioni magari sono diverse però siamo molto contenti di come sta andando il trend mi raccomando continuate a seguirci cliccate sulla campanella seguiteci sul sul sito www.9milagiri.it oppure mi potete chiamare per qualunque per qualunque questione in ufficio 027383175 per il momento è tutto alla prossima ciao ciao ciao